Buongiorno da FT Online, avvio moderatamente positivo questa mattina per i principali mercati azionari europei, in questo momento abbiamo il nostro Futsimib che sta guadagnando lo 0,03% circa, siamo sui 23.600 punti, sopra 23.650 avrebbe inviato un bel segnale di forza, introduttivo al test di area 23.750 almeno, ma veniamo adesso a quei titoli del mercato domestico che questa mattina stanno inviando segnali graficamente interessanti, il primo tra questi è Dias Orin, per il quale gli analisti di Berenberg hanno alzato il prezzo obiettivo a 48 Euro dai 41 Euro precedenti, confermando anche il giudizio buy, la variazione da inizio anno del titolo del 26,5% circa e nell'ultimo mese in termini relativi sul future share il rialzo è stato del 3,8% circa. Sul grafico si nota come ci sia una forte resistenza in corrispondenza ai massimi di aprile a 42,78 Euro, resistenza che quindi è stata già superata questa mattina grazie al rialzo che ha portato i prezzi fino ai 43,45 Euro circa. A questo punto verrebbe spontaneo prospettare la ripresa del trend rialzista che i prezzi hanno disegnato dai minimi dello scorso ottobre, trend che potrebbe essere considerato all'interno di questo canale e con quindi un primo target per la crescita dei prezzi sul lato alto del canale intorno ai 45,60 Euro circa. È possibile che nel corso del medio termine le quotazioni salgano anche oltre quei livelli, se andiamo a guardare il grafico di più ampio respiro ci accorgiamo infatti che il titolo è all'interno di un trend rialzista dai minimi del gennaio del 2012 ed anche in questo caso è possibile ipotizzare la creazione di un canale il cui lato superiore è praticamente sui livelli che i prezzi stanno toccando questa mattina. Se dovesse essere confermata quindi la rottura di questa importante resistenza di area 43,50 verrebbe forzato il limite superiore di questo canale di più ampio respiro e come sappiamo la rottura del lato alto di un canale rappresenta un segnale di forza significativo che potrebbe a questo punto andare a interessare anche il medio e lungo termine, quindi l'ipotesi del raggiungimento di target come quelli segnalati dal broker Berenberg a 48 Euro appare in questo momento se i prezzi devono salire di sopra di 43,50 del tutto plausibile. Ma veniamo ora a Prismian, questa mattina Credit Suisse ha confermato il giudizio overweight sul mercato nazionale italiano e tra i titoli che ha segnalato come preferiti c'è appunto anche Prismian oltre a Pirelli, Banca Intesa, Mediaset, UbiBank e Raiway. Il titolo questa mattina è in modellato rialzo, siamo a 20,35 Euro, anche in questo caso è possibile individuare una forte area di resistenza poco al di sopra dei prezzi attuali in prossimità di area 21,05-21,10. Se le quotazioni dovessero riuscire a superare quella resistenza verrebbe confermata la tendenza positiva che i prezzi stanno disegnando dai minimi dello scorso ottobre e in quel caso avremmo un'evoluzione crescente che potrebbe dimostrarsi anche di ampio respiro. Non dimentichiamo infatti che i prezzi dopo aver testato ad aprile i massimi dello scorso mese di gennaio 2014 in area 19,80 sono saliti appunto fino sui 21 Euro a maggio, sono tornati proprio nel corso delle ultime sedute a testare dall'alto l'ex livello di resistenza che ora diventa un supporto significativo e dopo questo return move sarebbe quindi possibile che le quotazioni cercassero di mettere a segno una nuova fase crescente di ampio respiro. Anche in questo caso abbiamo un canale rialzista che è possibile disegnare dai minimi della fine del 2011, siamo in prossimità della resistenza offerta dal lato alto del canale che si colloca a 21,35 Euro, ma se dovessimo vedere i prezzi anche di sopra di quella soglia ci sarebbe spazio per una crescita significativa con i prezzi diretti almeno sui 25 Euro. Solo se dovessimo ritornare quindi al di sotto dei massimi del gennaio 2014 in area 19,75-19,80 ci sarebbe il rischio di una fase di correzione decisa di tutti i rialzi che abbiamo visto dai minimi dello scorso ottobre. Veniamo infine ad Atlantia, questa mattina il titolo è leggera flessione, stava perdendo poco fa la 0,3% a 22,82 Euro, Fitch ha confermato il rating a meno sul gruppo Atlantia e sulla sua controllata Autostrada per l'Italia con Outlook stabile, graficamente il titolo è impostato discretamente, abbiamo un livello di ritracciamento del rialzo dai minimi dello scorso ottobre che si pone a 22,20 Euro circa, raggiungibile in caso di violazione del minimo del 7 di maggio a 22,63 Euro, ma se area 22,60 dovesse confermarsi come supporto, probabilmente non ci sarebbe nemmeno la necessità di scendere fino a 22,20 e il titolo invece potrebbe cercare di sfruttare questa sorta di triplo minimo che ha disegnato nel corso del mese di maggio per cercare di tornare a dare l'assalto ai massimi dello scorso aprile che si posizionano a 25,63 Euro, quindi al di sopra di 22,60 Euro ci sarebbero prospettive di crescita almeno fino a 25,60, 25,70 da confermare alla rottura dei 24 Euro, solo al di sotto di 22,20 invece ci sarebbe il rischio di una fase correttiva più ampia e quindi in quel caso perderebbe interesse l'idea di andare a comprare il titolo. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento per il commento giornaliero di domani, grazie.